Un giorno particolare nel senso che una festa che rafforza l'amicizia tra Italia e l'Ungheria, un momento storico che noi abbiamo trovato come un simbolo del legame, la fila che unisce le due nazioni. Pensando sull'epoca medioevale, sull'epoca di umanismo, il secolo XV, anche a un punto la storia, la ispirazione di Janus Pannonius che è stato praticamente ispirato qui alla Rocca, un simbolismo perché rafforza la cooperazione e trova i punti comuni nella nostra storia e mostra anche che l'Italia è la fonte di tutte le culture europee, mondiale e influenza anche l'Ungheria. Ma allo stesso tempo anche l'Ungheria potrà influenzare la storia italiana. Oggi l'Ungheria che influenza la storia perché sta commemorando Janus Pannonius con questa lapida, con la poesia, l'Ungheria ha ritrovato la sua fonte, le sue risorse della cultura qui in Italia. Dunque un punto comune e vorrei anche menzionare che noi abbiamo scelto 2013, non un anno prima o un anno dopo. 2013 è una grande festa della cultura italiana e ungarese. Due anni fa i due governi hanno deciso di dedicare 2013 alla cultura ungarese e italiana e noi abbiamo pensato, ideato che forse l'inaugurazione di questa lapida in 2013 potrà anche simbolizzare la nostra cooperazione, la nostra amicizia. Un punto comune tra la storia e la cultura italiana e ungarese. Una giornata, come ha detto l'ambasciatore, straordinariamente importante. Lo ringrazio della sua presenza. Noi siamo onorati di avere con noi l'ambasciata d'Ungheria e l'ambasciatore per rinvigorire questo legame con il nostro paese e con la nostra città. A me piace ricordare in occasione di questo evento un grande narnese che ha avuto un significato particolare nella storia della cultura ungherese che è Galeotto Marzio, che ovviamente fa parte della squadra di Giano Pannonio e che è stato colui che ha di fatto allestito la Biblioteca Corvina perché lui è stato un soggetto che ha frequentato molto la corte di Re Mattia Corvino in Ungheria e è un personaggio molto apprezzato della cultura italiana ed ungherese quindi è un legame ulteriore che si è stabilito con la nostra città a testimonianza della collaborazione che l'Italia e l'Ungheria sul settore della cultura portano avanti da anni. Ho ricevuto l'invito anche per partecipare l'anno prossimo al premio di poesia dedicato a Giano Pannonio. Cercherò di esserci in tutti i modi perché mi piace, dopo la visia dell'ambasciatore, riconoscere anche da parte mia un apprezzamento in questo senso quindi farò del tutto perché Narni sia presente in quell'occasione l'anno prossimo ad agosto.